A Montesilvano questa mattina in programma un convegno sulla nuova Pescara, la tanto attesa fusione dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara, sotto un unico nome e amministrazione. A presiedere all'incontro Antonio Castricone, parlamentare PD, Antonio Di Marco, presidente della provincia di Pescara, il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, il governatore della regione Luciano D'Alfonso e dopo una lunga assenza dalle scene politiche anche Enzo Cantagallo, ex sindaco di Montesilvano, travolto dall'inchiesta Ciclone. E proprio sulla sua presenza si è incentrata la protesta messa in atto da Antonio Aliano, Forza Nuova e alcuni cittadini. Sulle magliette l'ha scritta mai più Ciclone e sul retro invece Vergogna. Dopo qualche attimo di tensione i manifestanti hanno abbandonato la sala, assente al momento il presidente della regione che ha replicato così alle accuse. Intanto democrazia continua a sostenere e a significare che chiunque ha un'idea la può professare. Cantagallo ha assunto questa iniziativa per far conoscere un suo punto di vista e per conoscere i punti di vista degli altri operatori. Non mi pare questo né un reato né un fatto diciamo così paludoso. Io mi auguro che tutti i cittadini di Montesilvano, di Spoltore, di Pescara, di Francavilla, di questo sistema urbano che abbiamo denominato nei termini che sapete, ognuno si mobiliti per far conoscere il suo punto di vista. Io mi scandalizzo davanti all'indifferenza, non davanti a chi assume iniziativa. Questo appuntamento è utile e interessante, bisognerebbe implementare questi momenti di confronto perché sono convinto che i cittadini non abbiano tutti compreso l'effetto di questa proposta al referendario.